Nella città dei Sassi, quest'anno il Natale inizia prima che in ogni altra parte d'Italia. Dal 22 al 25 novembre, da mezzogiorno a mezzanotte, Matera diventa la città del Natale 2018, con i mercatini di Natale sotto la neve artificiale, lo street food e soprattutto tanto spirito natalizio. Il vero Babbo Natale vi aspetta al Castello Tramontano. Venite a consegnarli le vostre letterine. Dal 22 al 25 novembre è Matera, la città del Natale 2018, un'organizzazione Antonio Rubino con il patrocinio del Comune di Matera.